Ho seguito il corso di drammaturgia all'interno della scuola dei mestieri dello spettacolo del Teatro Biondo di Palermo e all'interno di questo corso di drammaturgia abbiamo avuto l'occasione di poter lavorare su dei testi, scrivere dei testi e io ho scelto appunto di approfondire la figura di Danilo Dolci. Da lì poi in realtà è venuto fuori un mondo che non mi aspettavo, una storia totalmente nuova, ma devo dire che l'ispirazione nasce proprio da questo corso di drammaturgia di due anni lì al Biondo. È uno spettacolo ispirato a un libro scritto da Danilo Dolci, in particolare Banditi a Partinico, in cui si affrontano i disagi di una partinico degli anni 50 e proprio da lì lo spunto appunto di parlare di una famiglia degli anni 50 che subisce la perdita del capofamiglia in circostanze sospette e uno stato assente e una povertà dilagante li costringe a rimuginare in questa scomparsa del capofamiglia fino a maturare addirittura una vendetta personale. Quindi la solitudine in tutti i sensi che spinge poi alla violenza e alla feratezza. Io spero che arrivi questo messaggio, quello che vogliamo lanciare, appunto come si possa arrivare a maturare anche un crimine, anche dei crimini efferati, però perché alla base c'è un abbandono. Diceva proprio Danilo Dolci, lui voleva studiare Banditi a Partinico, il fenomeno del banditismo di Partinico. In realtà questo doppio nome non è soltanto Banditi a Partinico, ma Banditi dallo Stato, un popolo messo al bando, abbandonato e quindi obbligato da chi poteva cambiare le cose a seguire le strade anche più tragiche.